Ciao a tutti amici di Marinowski, eccoci qui con il terzo appuntamento con Monster Energy Supercross The Official Videogame alcuni di voi mi hanno fatto notare che ho lasciato le opzioni di gara di default ebbene sono andato a modificarle, ve le mostrerò qui di seguito infatti nelle opzioni di gara ho messo tipo di gara semi pro che ha aumentato del 15% la difficoltà poi ho lasciato ovviamente lunghezza corsa, sì corsa corta, ho aumentato leggermente la difficoltà IA che passa appunto da molto facile a media poi la fisica ho messo normale e qui ho lasciato tutto attivo quindi freni congiunti, peso pilota, cambio e poi ovviamente Rewind ne farò un utilizzo diciamo consapevole per così dire senza strafare e come bonus totale di queste opzioni di gioco c'è un bel più 75% io direi di partire subito con la nuova gara, con la nuova gara per vedere effettivamente cosa comportano questi cambiamenti su Monster Energy Supercross The Official Videogame per l'appunto ci rivediamo subito in pista a tra pochissimo nel tracciato Roger Center di Toronto mamma mia toronto, mamma mia grandi ah eccoci qua, toronto questa volta la gara vera e propria, vabbè partiamo dalla 22esima posizione che è l'ultima ecco una bella cutscena, salutiamo tutti ragazzi siamo pronti qui con la nostra Yamaha ok, siamo pronti per fare faville con questo nuovo assetto diciamo vediamo un po' cosa ne uscirà fuori ovviamente Rewind lo utilizzerò in maniera consapevole però intanto io mi sto accorgendo di una cosa ho giocato finora soltanto con una visuale quindi mettiamo pure questa oddio non sono abituato, in prima persona addirittura mamma mia mamma mia ragazzi sto dentro la moto praticamente ci siamo, gli scrub saranno di, oh andi un po' complicati allora come dicevo non sono consapevole del rewind qua cambiamo anche visuale questa è un'altra e poi c'è questa qua, questa un po' più eh direi di rimettere quella più consona alle nostre capacità ossia questa qui, in terza persona almeno per il momento eh poi insomma mi devo un po' impratichire no? con le altre visuali non mi sembra l'occasione giusta questa visto che ho cambiato i settaggi partendo da un'altra visuale che è quella che sto a cui sto giocando ora ecco gli effetti sono carini, la grafica pure i ragazzi di Milestone sotto questo punto di vista hanno fatto dei passi notevoli anche perchè come ho scritto nelle precedenti insomma recensioni di altri eh no come hanno azzuppato però eh scusate eh vabbè cioè qua sono stato azzuppato da da sto tizio qua nei precedenti capitoli insomma le precedenti produzioni ecco eh la cosa in cui Milestone peccava moltissimo a differenza invece poi dei contenuti sempre numerosi, corposi eccetera è appunto l'aspetto tecnico del gioco e l'intelligenza artificiale degli sfidanti in game ehm degli avversari in game eh beh e dal punto di vista grafico la situazione è nettamente migliorata l'utilizzo dell'underland engine o online engine insomma ditemelo qua nei commenti come si pronuncia perchè tutte queste cose sono un po' indietro soprattutto eh riguardo la lingua inglese devo migliorare la pronuncia e anche altro insomma e intanto qui un po' di danari ci sta dando credo ehm peccava niente il punto di vista tecnico del gioco ecco la giocabilità mi è sempre piaciuta con le mali sono perchè comunque andava a unire faceva un bel connubio no oddio ehm un connubio tra ehm simulazione e arcade cosa che queste prime battute non sembra essersi poi persa anche in questa nuova produzione ehm vediamo un po' come sarà ehm sono ancora agli inizi ho fatto ancora ben poco vabbè questo qua rewind no perchè ho fatto l'errore grossolano in prima persona cioè io e niente vediamo vediamo intanto ehm qui la situazione ehm sta degenerando perchè non riusciamo a farci valere siamo soltanto soltanto insomma per fortuna eh in tredicesimi vediamo un attimo di tastare al meglio questa configurazione di comandi e di ehm qua mi sono bloccato un attimo perché me la sono vista brutta e vediamo di migliorare un po' la la posizione in gara la nostra performance allora ah ma qua mi hanno spinto proprio la grande evito di dire la posizione perché è un momento proprio complicato complicatissimo qui sono cascato mi hanno superato in 14.000 infatti sono quindicesimo ma ma non è detta l'ultima parola vediamo un po' sempre quindicesimo però sto proprio attaccato al gruppo eh questo secondo gruppo di gara vediamo un attimo difficoltà media insomma dai potrebbe andare peggio ragazzi potrebbe andare peggio intanto questo mi è salito un'altra volta in testa però qui abbiamo superato tutti quasi c'è questo Craig il solito oh che abbiamo azzuppato l'abbiamo azzuppato poor Craig farei soltanto rewind per aiutarti ma il primo che deve essere aiutato in questo caso sono io che sono neofita di turno undicesimi ok abbiamo Peters qui davanti dobbiamo cercare di di succhiargli qualche centimetro in più per superarlo eccolo qua il sorpasso è venuto ma Peters è qua dietro insomma qua a fianco a noi sta praticamente alli calcagna guardate guardate poi rallentato di proposito perché oh no no ha fatto una cavolata oh sta succedendo un macello qua Peters ci ha distaccato un po' vediamo ok ok per lo meno abbiamo superato Peters quello quello si quello si sbloccato un bel trofeo pilota professionista beh perché abbiamo modificato per l'appunto quei settaggi lì delle opzioni di gioco quindi il campionato decimi ok undici punti è sempre soddisfatto questo team manager secondo me ragazzi non gliene non gliene può fregare di meno della situazione tanto ci stanno i sponsor entrano soldi appalate e 6.000 a te ok qui abbiamo fatto per virgolette soltanto 14.000 punti però gli sponsor pagano quello che vedo è anche il fatto delle opzioni di gara paga quanto riguarda il livello siamo saliti a livello 8 vediamo se quasi a livello 9 siamo lì comunque abbiamo sbloccato anche una nuova modalità ovvero il campionato ufficiale bene così bene così ragazzi allora io direi che per questo gameplay che è successo perché hai fallito il salvataggio caro perché hai fatto ciò ok perfetto è andato tutto a compimento ok direi che per questo gameplay è tutto ovviamente registro altri gameplay un po' più in avanti cioè il prossimo che vedrete non sarà il prossimo che farò io ma vorrei per l'appunto migliorare il mio gesto in game perché conti fatti vi ho fatto conti fatti vi ho fatto non si può sentire ho giocato praticamente questa prima porzione del mio della mia avventura tutta su youtube tutta registrata dal livello 1 al livello 8 quindi ci rivediamo più in avanti per Monster Energy videogame perché è un gioco che mi sta divertendo in queste prime battute quindi penso che lo giocherò per molto molto tempo anche successivamente alla recensione soprattutto non so se lo giocherò online perché secondo me non so quanto sarà corposa la community ecco però sicuramente lo porterò sul canale ovviamente aspetto un feedback da voi più feedback per migliorare la produzione la scelta di non mettere la web è assolutamente voluta proprio per farvi medesimare al 100% con il gioco questo è tutto ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel like un saluto dal vostro marionowski ciao